L'Avellino è sempre al lavoro per un portiere, il duo Martone Musa è sul mercato alla ricerca di un estremo difensore che possa affiancare tonti. I dirigenti bianco-verdi hanno preso informazioni su Paolo Branduani, classe 1989, e questo è il nome nuovo per la Porta Irpina. L'estremo difensore è in uscita dalla Juve Stabia. Ciro Polito, uomo mercato delle Vespe, ha parlato del calciatore con l'Avellino. Il titolare a Castellammare lo scorso anno, quando la squadra stabiesa ha vinto il torneo DC con 34 presenze, ha giocato al Menti anche l'anno prima in anellando 33 gettoni. Per lui in questa stagione 5 gare giocate in cadetteria. Branduani ha vinto anche un altro campionato DC con la spalla. In carriera ha indossato le maglie di Teramo e Albino Leff, per lui anche una parentesi con l'Inter, 287 presenze tra i professionisti. Non si perdono di vista neanche Alessio Dini del Parma, Marius Adamonis del Cananzaro e Francesco Forte della Carrarese. A Mister Capuano piacciono Richard Marcone della Ternana e Gianmarco Vannucchi della Salernitana. Passando all'attacco sembra essere sempre più difficile la pista che porta Pietro Cianci, la punta del Teramo, dovrebbe passare al Siena. Altro nome per l'attacco spuntato in queste ultime ore è quello di Jacopo Manconi, di proprietà del Perugia, ma in prestito al Gubbio, con un passato tra le fila di Trapani e Reggiana. La prossima settimana si discuterà dei rinnovi di Fabiano Parisi, Alessandro Di Paolo Antonio e Giuliano Laizza.